A buona secuzione da X? Sì, papà! Poco di nuovo? Sì! Paglia di nuovo? Sì! Gli amici un picco! Papà, vengono per la scuola di nuovo! No! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Vuoi sapere o no? Sì, papà! E sienti a me! Oddio! Colore grigio zoccola! Mamma mia! Quattro di nuovo! Mamma mia! 1.6 diesel! Uuuuh! 120 cavalli! Vuoi sapere il prezzo? Sì! No! Vuoi sapere il chilometro? Sì, mamma! No! Ries! Ries! 170.000 chilometri! Non ho 300.000 chilometri! No! Vuoi sapere il prezzo? Sì, mamma! Sì! 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 8.900! Che è questa quattordicimila euro? Vado là! Voglio sapere un saluto tutto bagul! Ti spremo come un limone!